Ciao Luca, ciao Corrado, buongiorno, grazie per essere qui. Credo che con voi abbiamo battuto un altro record, perché poi mi piace annoverare alcuni record nel podcast di 3D Metrica, che è quello di parlare, dopo pochissimo tempo, di un argomento di cui abbiamo già velatamente, abbiamo già discusso in una puntata precedente. Oggi riparliamo di FME, entriamo molto nel dettaglio di questo software, per cui benvenuti, grazie del vostro tempo, grazie di essere qui. Ciao Paolo, grazie a te, ci fa piacere condividere un po' di informazioni su FME, dare qualche profondità in più, naturalmente lo facciamo molto volentieri. Anche da parte mia, grazie Paolo, e buongiorno a chi ci ascolta direi. La premessa è questa, giusto per spiegarla un po' a chi ci ascolta e chi ci guarda. Poco tempo fa, per chi fruisce di un contenuto web è sempre abbastanza difficile, però poco tempo fa, rispetto a quando stiamo registrando noi, ho registrato una puntata insieme a Giuseppe Barbieri, dove abbiamo parlato anche di FME, oltre che la sua attività di topografo in Svizzera. Mi ha molto incuriosito questo tipo di software, per il quale ero un po' a digiuno, ho percepito delle grosse potenzialità, poi sono estremamente curioso e mi è rimasto un po' qua, un po' di cose che non avevo capito e quindi mi piace approfondire un po' di più questa cosa. Stessa cosa, ci sono arrivati diversi feedback, da parte di chi ascolta il podcast, da parte di chi guarda i video, e chiedendomi, ma questo software, ma cosa ne sai? Andiamo un po' più nel dettaglio, mi sai dare qualche info? Io ovviamente non sapevo dare nessun tipo di informazione. Poi, terzo punto, un link che abbiamo molto in comune, che è Stefano Crepaldi, che io saluto fortissimo, che poi per voi è anche un collega. Ci siamo sentiti, noi ci sentiamo per altri motivi, mi ha detto, guarda che io ti posso far parlare con le persone giuste riguardo a FME. E quindi siamo qua oggi, e Luca, inizio con te. Intanto ti chiederei di farci un'introduzione, o raccontarci un po' chi siete, e di che realtà fate parte, e poi qual è il legame che avete con FME. Volentieri, volentieri. Intanto ho ringraziato anch'io Stefano, perché ovviamente è un collega che normalmente è seduto a due metri da me, quindi è molto facile condividere con lui le cose, e quindi ci fa piacere poterlo fare anche con voi adesso. Io cerco di essere un po' rapido, e non annoiare troppo sulle descrizioni istituzionali della nostra azienda, che si chiama Genesis G. G sta per Geographical Intelligence, ed è sostanzialmente il risultato del merge, dell'unione, di una serie di aziende più piccole, questa unione è avvenuta negli ultimi 4-5 anni, quindi in una forma coesa, condivisa, ha preso il nome di Genesis G. In realtà siamo un'azienda fondamentalmente IT, cioè facciamo soluzioni e servizi legati all'infrastruttura tecnologica del software, in particolare con una specifica, devo dire, fortissima focalizzazione sul mondo che noi chiamiamo Geospatial, mutuando un po' di tempo acronimi, oppure definizioni americane, dove abbiamo molti punti di riferimento, mettiamola così. In questo ambito, diciamo, Geospatial, noi, la nostra azienda, realizza alcune cose, i cui principali pilastri, le principali attività, sono quelli che io descriverei come Data Detection, cioè la raccolta dei dati in campo, questo dobbiamo immaginarlo in un senso molto ampio, qui parlo di, non so, la realizzazione di fotogrammetria, magari utilizzando droni, piuttosto che aerei, piuttosto che magari l'uso di immagini satellitari, che naturalmente acquisiamo da partner, da aziende terze, piuttosto che rilievi in campo veri e propri, come forse sono più vicini alla vostra storia, della tua attività, la raccolta, in sostanza, con sistemi anche un po' smart, di dati in campo, per un uso successivo. Questo è il primo grande pilastro. Il secondo è l'integrazione, l'omogenizzazione, il trattamento di questi dati, e qui FME è proprio fondamentale, perché ci consente di utilizzare dati di natura, formato, sorgenti, diverse, molto diverse tra loro, che siano grafiche, GIS, CAD, piuttosto che alfanumeriche, e, diciamo così, renderli fruibili, nella forma, nella dimensione, nella localizzazione anche, utile al nostro cliente, a noi o al nostro cliente. Il terzo elemento è quello dello sviluppo, sviluppo e anche manutenzione, nel tempo delle applicazioni software, che usano quei dati, cioè, realizziamo i sistemi, che poi i nostri clienti, e magari li integriamo, in sistemi più ampi, presso i clienti, che sono tipicamente organizzazioni, piuttosto grandi, insomma, che poi sono i servizi, i sistemi, che utilizzano i dati, che sono stati acquisiti, omogenizzati, gestiti, e quindi fruiti, dagli utenti, all'interno del cliente, che ci commissiona al lavoro. Questo è un po', l'ordine di idee, di quello di ciò, di cui si occupa Genegis. Abbiamo una storia, molto legata, diciamo così, ai sistemi informativi, territoriali, ai GIS, insomma, che si diceva così, un tempo fa, abbiamo un'estrazione, che deriva, molto dagli ambiti, legati alle utilities, alle multi-utilities, è un'esperienza, siamo un po' vecchi, anche in certi, c'è alcuni di noi, diciamo, più che ventennali, su questi temi qui, quindi, veramente profonda nel tempo, da certi aspetti, fin troppo, nel senso che poi, effettivamente, il tempo passa di fretta. La nostra scelta è quella di tenerci, il più possibile, aggiornati, e sulla cresta dell'onda tecnologica, senza scegliere, senza legarci, a uno specifico, chiamiamolo così, vendor, cioè, non vorre, noi siamo, diamo, ci definiamo come multi-piattaforma, siamo in grado di sviluppare, sistemi e dati, su tutte le piattaforme più comune, del nostro ambito, naturalmente, non ci occupiamo di gestionali, o di, che ne so, di SAP, nella nostra nicchia, che però è sufficientemente ampia, siamo molto profondi, però anche in grado di spaziare, sulle diverse tecnologie, di cui FME è una. Assolutamente, già il fatto che tu hai nominato il multi-piattaforma, da quello che ho capito, da quello che ho assorbito, dalla prima chiacchierata su FME, ecco, ci vedo già un legame forte in questo caso. Sì, infatti FME, devo dire, che la nostra relazione con, o meglio, con Safe Software, Safe Software è il produttore di FME, è un'azienda canadese, il nostro legame con loro, nasce, credo, a metà degli anni, 2006, 2005, 2006, di quegli anni lì, perché noi cercavamo, abbiamo trovato una soluzione, che ci facilitasse la realizzazione di sistemi, di integrazione di dati, a livello, molto allora nella pubblica amministrazione, o nelle utilities, in seguito in altri ambiti anche, FME è lo strumento giusto per far, per consentirti in modo agevole, e molto veloce, di andare a prendere, e automatizzare il flusso di dati, da varie fonti, dentro il tuo sistema, che poi può essere reso fruibile, attraverso i nostri sistemi, ai nostri clienti, quindi, in realtà, questo tipo di interoperabilità, era per noi allora fondamentale, l'abbiamo ritrovato in FME, che era ovviamente, in una versione di quegli anni lì, quindi, poi molto sviluppata nel seguito, l'abbiamo utilizzata, l'abbiamo integrata, l'abbiamo sfruttata, diciamo, come utenti, nelle nostre progettazioni, e credo dal 2009, formalmente, abbiamo stretto il rapporto con 6 software, siamo diventati partner, da allora, diciamo così, più che promuoverlo commercialmente, lo descriviamo, e lo proponiamo all'interno dei nostri progetti, perché, effettivamente, è un elemento di, riconosciuto, poi in realtà, nel mondo, ovviamente, è diffuso worldwide, non è soltanto un prodotto italiano, riconosciuto nel mondo come, lo chiamavano, special ETL, insomma, il trasformatore, integratore di dati, migliore, insomma, o meno considerato migliore, anche dalle altre organizzazioni. È interessante il fatto che, ancora prima di stringere una partnership con Safe, voi siete stati degli utilizzatori di FME, credo che queste facciano un po' di differenza, tra una sorta di, rapporto commerciale di vendita di un prodotto, e questo si può estendere a un sacco di ambiti, rispetto a, capisco il prodotto, lo digerisco, lo uso io stesso, e te ne posso parlare, andando nel dettaglio tecnico. È assolutamente questo, probabilmente uno degli elementi vincenti, anche per FME in Italia, noi siamo, diciamo così, riconosciuti come il partner in italiano, e abbiamo costruito competenze, naturalmente, oltre al legame con Safe Software, però in realtà, è proprio quello che ci consente di farlo, perché il nostro interesse non è tanto nella rivendita di un pacchetto software, per capirci, che non facciamo, se non laddove necessario, sugli specifici progetti, ma quanto avere uno strumento, diciamo così, che è una freccia al nostro arco molto importante, perché ci consente di risolvere moltissimi problemi, in tempi e costi, diciamo così, adeguati, e certe volte veramente molto competitivi, rispetto, diciamo così, allo sviluppo software tradizionale, questo ci dà un grosso vantaggio competitivo, ed è quello che ci piace, poi naturalmente siamo in grado di produrre, e vendere, le licenze, e rivendere le licenze, ma, diciamo così, non è quello il focus principale. Senti, Corrado, abbiamo parlato di interoperabilità, abbiamo parlato di interscambio di dati, accessibilità a tanti formati di dati, facciamo insieme una sorta di focus, sul principio di base, e su poi come è stato sviluppato il principio di base, in termini di funzionamento, all'interno di FME. Sì, guarda, FME è più facile usarlo, che descriverlo, proprio perché non c'è un software, un'applicazione con cui fare un paragone, è proprio difficile dare una descrizione a chi non si è mai avvicinato a questo mondo, quindi userò magari dei paragoni un po' così simpatici, ma che secondo me danno l'idea. Allora, il concetto è che FME è uno strumento che serve per captare dei dati, sostanzialmente, da delle fonti, queste fonti sono più di 200, poco più di 200, e come fonti non intendo solo formati, file, o database come Postgis, o altre sorgenti di questo tipo, intendo anche servizi, quindi fonti di dati cloud, che erogano un servizio di data download, quindi FME prende questi dati, li capta, li trasforma, quindi li trasforma, li integra, li unisce con altri dati, li arricchisce, e li riversa in delle destinazioni, quindi è una sorta di data streaming, di flusso di dati che partono da un punto e arrivano in un altro. L'esempio che ti dicevo prima, che secondo me funziona, soprattutto un'olta che comincia a usarlo, è innanzitutto non bisogna essere dei programmatori, quindi è uno strumento di sviluppo, ma nello stesso tempo non bisogna saper sviluppare, tant'è vero che si parla più di ETL designer, perché sono dei blocchetti, dei nodi, che vengono congiunti fra di loro da dei connettori, e i dati passano da un blocco all'altro. Ok, un po' come i tubi. Ci sono diversi software, esatto, è proprio così, per cui l'utente si costruisce questa sorta di catena di montaggio, una sola volta, e automatizza un processo. Ok. Una volta che ha finito di sviluppare questa catena di montaggio, questo processo, deve solo lanciare il tasto che avvia l'automazione. Questo vuol dire che ogni volta che il dato iniziale, la fonte cambia, e l'utente rilancia la procedura, il processo rifà tutto il percorso, e arriva alla destinazione. Ok. E questo è un po' il concetto. La prerogativa, ti interrompo un secondo. FME non crea dati, cioè il dato iniziale deve esistere già. Ok. Esattamente. Non crea dati se non trasformarlo, faccio un esempio proprio banale, carico uno shapefile di poligoni, c'è un trasformatore che si chiama Area Calculator, aggiungi un attributo che si chiama, o lo chiami come vuoi, e gli metti il valore della superficie. Questo è una trasformazione, un arricchimento di un dato, che in realtà crea FME, ma usando un algoritmo di calcolo. oppure prendo una serie di punti georiferiti, e chiamo un servizio di geocodifica su web, per magari dare l'indirizzo di quel punto. quindi il termine esatto, l'ho usato tante volte, ovviamente l'effetto è questo. Però capisci che è molto difficile dare degli esempi, perché come ti dicevo prima, il rischio è che qualcuno che senta questo esempio, dica, ah sì, non fa per me. In realtà fa tante altre cose, perché gli ambiti di lavoro di FME sono tantissimi. Ci si va dal BIM, dal CAD, dal GIS, dal Raster, dal Point Cloud, quindi anche l'alfanumerico, quindi non solo il TL spaziale. Allora ti direi questo, visto che poi ci siamo sentiti prima di registrare, so che hai qualche caso applicativo da provare a descriverci, in modo da far capire in maniera semplice come lavora FME. Ti faccio però prima una domanda io. Tu mi hai parlato di questi blocchi che sostanzialmente sono dei blocchi di codice che fanno delle azioni. In realtà ho due domande io. Una è, cioè quanto è difficile sapere che blocchi, cioè come un utente, come ci si muove all'interno di questo mare di blocchi per andare a trovare quello che fa a caso suo. La seconda che è legata è, sono blocchi chiusi oppure tu hai detto non serve essere programmatori, ma se uno sa mettere mano a questi blocchi di codice può in qualche modo editarli al fine di rendere poi la user experience la più efficace e snella possibile. Sì, allora il concetto di FME è proprio quello di non programmare, ma di usare i, direi, quasi più di 400 trasformatori attualmente ci sono. Ogni trasformatore ha delle opzioni, quindi il blocchetto tu lo apri e gli puoi dire una serie di cose. A seconda, prima ho fatto l'esempio dell'area calcoletto, gli puoi dire se vuoi usare sul superficie piana o sulla superficie curva oppure dargli degli altri parametri, ovviamente questo è proprio un trasformatore banale, ma il bello è che tu puoi prendere una serie di trasformatori e concatenarli tra loro per ottenere quello che vuoi e questi trasformatori tu li puoi, diciamo, riunire in un unico trasformatore, quindi questi passaggi che tu hai creato, perché è uno strumento anche molto creativo, perché al risultato tu puoi arrivare in diversi modi diversi, io stesso oggi lo faccio in un modo, domani lo faccio in un altro, tu lo farai in un altro modo ancora, quindi faccio questa serie di nodi concatenati, li customizzo chiudendoli in un unico trasformatore e magari lo pubblico sulla community. La community di safe è molto ricca e ha moltissimi di questi trasformatori fatti da utenti, questa è una delle risposte che volevo darti. La seconda è questa, se proprio non trovi in FME un trasformatore o non trovi, diciamo meglio, il sistema per arrivare a quello che vuoi, puoi utilizzare delle sorgenti esterne, banalmente, le regex per lavorare, le regular expression per lavorare sulle stringhe, puoi usare del codice Python per farti il tuo codice se proprio non riesci a trovare, puoi usare delle libre esterne come i last tools, le gidal, ybox per chi conosce, adesso le cito le prime che mi vengono in mente, puoi chiamare anche dei comandi DOS, dei comandi Windows, dei comandi Linux per fare certe cose sui file, ecco, puoi uscire e puoi chiamare i servizi web, puoi fare delle chiamate HTTP per scaricare un file da qualche parte, durante il tuo flusso te lo scarichi, lo riprendi, lo usi come fosse una sorgente che è in locale, è difficile spiegarlo, però il concetto è che l'elasticità è veramente, veramente elevata. Chiaro, è interessante il fatto che comunque quello che hai detto ci sono più strade per arrivare al solito risultato e forse proprio il fatto di avere blocchi di codice che fanno un certo task ti permette di metterli insieme per arrivare a un risultato che è poi quello che ti interessa, cioè, infatti, hai detto bene, la parola elasticità è molto importante su questo processo. Posso aggiungerti, scusami Paolo, se hai capito che Corrado è quello che ne capisce tecnicamente, io non tanto, insomma, no? Anche se ho una certa esperienza sul tema FME, non ho mai da molti anni, in realtà mi piaceva aggiungere che i trasformatori sono elencati, sono descritti, quindi si riesce ad arrivare a capire qual è quello giusto per fare quello che ci interessa. una delle nostre attività, però, iniziali, quando incontriamo persone che cominciano a utilizzare FME oppure ne hanno bisogno, è quello di dargli una certa serie di, un certo supporto iniziale per chiarirgli, per capire, capendo cosa vogliono fare, chiarirgli quali sono gli strumenti, i trasformatori, i transformer, più indicati per fare quello che vogliono. Spesso Corrado e gli altri ragazzi ricevono chiamate del tipo senti, ma questa cosa qui che vorrei farla così, va bene con questo trasformatore? Magari il consiglio rapido al volo del nuovo trasformatore che è appena uscito, piuttosto dell'uso più specifico, risolve tanti problemi agli utenti. Assolutamente. L'elenco dei trasformatori, la sua descrizione è nota, è chiaro. Quello che ci mette l'esperienza, che ovviamente poi ciascuno pian piano si fa nel tempo, oppure si appoggia a quelli più esperti come Corrado e i colleghi, ecco, fa fare il salto in un modo più veloce. Mi viene anche... Sì, poi aggiungo solo questo perché non ti ho risposto effettivamente a una delle domande che mi hai fatto. Nello strumento di sviluppo, diciamo così, un pannello è dedicato proprio ai trasformatori. C'è un elenco di questi trasformatori che sono divise per categoria. Digitando sul canvas automaticamente con l'autocomplete ti vengono tutti i trasformatori. Mi viene da dire che i termini sono i soliti. Se uno cerca buffer, si chiama buffer anche in FMS. Vuoi fare un drape di un'immagine su un DM, scrivi drape, o area calculator, overlay, per fare gli overlay tra vettoriali. Molto ti aiuta anche la conoscenza che hai della tua materia. Quindi non è che abbiamo termini completamente diversi. Infatti stavo considerando questo che probabilmente nella grande disponibilità dei trasformatori è anche probabile che una persona, un professionista, un'azienda stringa necessariamente quelli che utilizza perché i suoi task, il suo lavoro è abbastanza verticale su quello che fa. Assolutamente. e quindi a questo proposito Luca ti passerei sulla parte proprio degli utenti. Voi nascete come utilizzatori di FME però ci hai detto che comunque avete una partnership, siete rivenditori, quindi credo che tu abbia, voi abbiate anche una sorta di punto di vista di osservatore preferenziale per capire chi sono gli utenti, gli utilizzatori e anche i clienti che voi servite per quanto riguarda FME. riusciamo a fare una sorta di panoramica classificandoli come vuoi tu se si possono classificare oppure no? Dimmi tu. Un po' sì, un po' sì, posso intanto dirti che gli utenti in termini come organizzazione non come persone ma come aziende, clienti nel mondo credo siano oltre 10.000 per farci capire l'ordine di diffusione di questo strumento che è riconosciuto appunto come probabilmente l'elemento vincente a livello globale insomma. in Italia noi ci riferiamo molto anche se poi noi siamo attivi anche all'estero sia per mezzo di gare tender o piuttosto che finanziamenti in realtà noi relativamente a FME il nostro mercato è molto italiano perché l'organizzazione di SAFE è fatta così diciamo quindi posso dirti che sul mercato italiano tradizionalmente FME è utilizzato moltissimo dalle organizzazioni che hanno una preponderante preponderanze sul mercato sulla gestione cartografica dei loro dati cioè pubblica amministrazione utilities in particolare o multi utilities o come dire attori che hanno che devono governare un territorio oppure una rete sul territorio oppure elementi comunque di riferimento territoriale sono stati storicamente l'elemento di sviluppo di FME quindi dal nostro punto di vista pubblica amministrazione molto pubblica amministrazione regionali oppure aziende in house delle varie regioni o province o comuni comuni stessi province stesse che autonomamente fanno altri pezzi lo dico perché poi all'interno di questi ambienti quando io parlo di un'amministrazione regionale poi in realtà all'interno ci sono per me è un cliente in realtà però ci sono diversi utenti perché ci sono quelli che ne so della catasto quegli altri della cartografia e sono settori separati che però fanno uso in maniera diversa della soluzione molto spesso in quegli ambiti un po' strutturati dal punto di vista software FME viene proprio riconosciuto come partner della pila tecnologica viene scelto come tecnologia di riferimento per fare certe cose e poi piano piano si diffonde un po' per passaparola all'interno degli uffici risolve problemi forse risolve anche il mio e poi passa anche all'altro e così via questa è una cosa molto vera che abbiamo osservato negli anni nella pubblica amministrazione nelle utilities dove dicevo storicamente noi facciamo servizi di sviluppo software più come dire anche più pesanti dal punto di vista del sistema realizzato in maniera simile si diffonde perché ovviamente è necessitato di tracciare reti con incidenza di queste reti sul territorio negli ultimi anni anche il fatto di tracciare altri elementi come sensori sulle infrastrutture piuttosto che infrastrutture critiche che vanno monitorate intendo piuttosto che monitoraggio di altri elementi che possono avere una dislocazione territoriale non solo per la gestione territoriale politica insomma dire amministrativa inoltre negli ultimi anni safe software non so se perché aveva già in parte saturato il mercato diciamo così geospatial ha cominciato a spingere molto e devo dire anche in Italia siamo riusciti a farlo su altri mercati non geospatial per esempio in ambito finanziario l'utilizzo di FME viene gradito viene applicato effettivamente per la preparazione di dati che poi magari vengono fruiti da sistemi di business intelligence per esempio non so faccio un esempio di localizzazione di clienti sul territorio per esempio ora ci sono aziende che non nulla hanno a che fare con il governo del territorio con la cartografia ma per i quali è interessante sapere dove sono i propri clienti o dove sono le aree di potenziale espansione della loro clientela quindi di fatto in qualche modo analisi geospaziali perché c'è un indirizzo c'è un numero civico ecco anche in quelle occasioni lì che sono magari per esempio finanziarie per esempio aziende di finanza hanno chiesto e applicato FME in questi ambiti quindi un po' diversi un po' innovativi cioè sfruttando di più la potenzialità di FME di trasformare integrare e come diceva ho corrato prima automatizzare certi flussi anche su dati che cambiano molto spesso assolutamente non so immaginatevi un'azienda che vende connettività per esempio ovviamente i clienti cambiano tutti i giorni ora questo tipo di flusso assicura a chi fruisce dei dati cioè al destinatario di questi flussi di avere dati sempre aggiornati e magari possono essere dati non so reportistica piuttosto che aggregazione di dati piuttosto che dati cartografici piuttosto che plotaggi di planimetrici e cose di questo genere quindi diciamo così storicamente si è passati da clienti specificamente del settore geospaziale per il governo del territorio verso moltissime altre applicazioni dove la cartografia è intesa come elemento di localizzazione di un interesse molto spesso economico quindi non più catasto ma dove sta il cliente Corrado prima ha detto una parola interessante che secondo me calza molto che è la parola creatività secondo me associando la parola creatività alla risorsa dato credo che ci possano essere un sacco di applicazioni di software come FME o FME stesso cioè software di questo tipo in ambiti che sono più disparati credo che tu hai fatto l'esempio della finanza mi viene in mente l'agricoltura a volte parlo con persone che trattano questi argomenti dove c'è un dato e dove c'è la creatività di poter trasformare il dato secondo le proprie esigenze credo che i software di questo tipo possano essere davvero vincenti Corrado hai voglia di provare a condurci su qualche esempio qualche caso applicativo in modo tale da rendercelo ancora più semplice e capire un po' il principio che c'è dietro e come si può applicare anche frammentando per vari scopi insomma ti lascio carta bianca ok grazie allora mi aggancio a quello che ho detto prima dicendo che FME può essere usato nella maniera più semplice possibile faccio un esempio una segretaria che ha un Excel lo sta compilando e vuole una procedura che magari gli corregga le linee doppie o gli faccia delle bonifiche e poi si inserisce questi dati in un sistema facendo una sorta di data validation e poi si arriva a automazioni molto complesse io così in vista di queste interviste ho cercato di dividere quello che abbiamo fatto in questi anni per ambiti cercando di toccarli tutti a 360 gradi e quindi il primo il più naturale di FME è la parte di export verso formati standard nazionali o internazionali cosa che abbiamo fatto ad esempio non so se chi ci ascolta conosce SINFI cioè il sistema nazionale per il catastro delle infrastrutture sostanzialmente quindi tutte le infrastrutture sotterranee quindi rete elettrica gas telecomunicazioni export verso formati inspire o formali poi il classico porting da sistema a sistema quindi ho un sistema su Oracle Spatial e voglio portarlo su PostGIS non solo la singola tabella ma tutto il sistema tutte le tabelle di configurazione tutto quello che ci sta intorno anche sistemi più complessi come Small World come Terra Data cioè database anche poco conosciuti sistemi militari ecco c'è veramente un po' di tutto quindi già solo quello è la preziosità di FME e poi la parte che piace più a noi è l'automazione dei processi in questi giorni ad esempio ne cito uno che forse ti accennavo già in privato in pratica tu immagina di avere un'antenna questa antenna ha bisogno di sapere quanti utenti copre e soprattutto se ci sono altre antenne le altre antenne si sovrappongono e quale segnale massimo rispetto a precedente ecco questo è una sorta di processo che coinvolge sia la parte relativa al modello digitale del terreno ai point cloud ma poi si aggancia con la parte GIS perché c'è questo grigliato a cui bisogna associare le informazioni quindi si passa sul 2D e quindi un unico strumento fa un processo unico molto spesso dei nostri clienti ci troviamo di fronte a persone che usano tanti strumenti diversi ad esempio prendo Excel per fare calcolare la cella poi il risultato lo prendo lo metto su QGIS perché così mi mette il punto specialmente poi vado su Saga GIS per fare un'altra cosa uso tre strumenti per fare un processo molto critico molto instabile perché poi magari sono fregato ma soprattutto tutte le volte che cambia l'input devo rifare i miei passi devo guardarmi la documentazione devo ricordarmi come ho fatto invece con FME io prendo faccio il mio processo e schiaccio il pulsante quando devo ottenere il risultato oppure lo schedulo oppure lo faccio lanciare un'applicazione o lo metto sul server e lo metto a disposizione di altri che lo lanciano da remoto perché c'è anche poi la parte server Luca diceva prima anche del monitoraggio ambientale FME si collega direttamente anche ai sensori abbiamo fatto un progetto di monitoraggio di una campata di un ponte collegandoci a un interferometro che dava sempre lo scostamento del ponte e se questo andava oltre un certo range FME manda una notifica al servizio di allerta poi ci sono le cose simpatiche tipo l'uccello che si posa sulla cabina scuote lo strumento e mette in allarme tutto però il concetto è questo è un altro esempio sono esempi molto diversi te ne faccio un ultimo un progetto molto grande che abbiamo fatto per la progettazione di smart city green field cioè partire da zero in Brasile da un'area da un perimetro FME costruisce i settori poi gli isolati i blocchi i singoli lotti tutta la rete l'infrastruttura di rete calcolando anche il computo quindi quanto ci vuole quanti lotti vengono fuori di tipo residenziale eccetera è una sorta di simulazione adesso ad esempio corrado scusami calcolando anche magari elementi come i volumi di sbancamento infatti stavo dicendo che questa abbiamo cominciato con questa fase adesso ci aggiungeremo la parte di scavi riporti perché questa azienda spende moltissimo quasi il 20% di quello che spende del progetto di tutta la progettazione della realizzazione della città è legato alle spese di scavi riporti quindi è bene fare un calcolo quindi stiamo diciamo adattando prima di questa fase l'analisi di superfici scavi riporti per portare tutto entro la pendenza minima prevista dalla normativa del luogo che in genere è 6% 8% non mi ricordo ok hai tirato fuori un altro caso molto interessante adesso per non fare nomi però mi vengono in mente tutte le grandi imprese che fanno grandi opere da uno strumento di questo tipo potrebbero beneficiare un sacco cioè nel momento in cui gestiscono dati che sono dati quantitativi in termini di hai fatto l'esempio di scavi hai fatto l'esempio di riporti però poi alla fine questi quantitativi si trasformano necessariamente in costi e quindi alla fine la parte computazionale legata supportata ad uno strumento del genere è potentissima anche e soprattutto per avere perché uno dei problemi mi è capitato quando nel mio decennio precedente ho fatto direzione lavori ho fatto aspetti legati alla realizzazione delle opere necessariamente gli stati di avanzamento sono discreti nel tempo non sono mai continui quindi uno strumento di questo tipo ti permette di avere uno stato di avanzamento costante interrogabile in qualunque momento chiaramente va costruito però il dato è molto potente anche sotto questo punto di vista tieni presente Paolo che poi appunto essendo passato qualche tempo anche gli strumenti di rilievo cosa che noi appunto facciamo sia con strumenti diciamo così di tipo ambientale quindi lungo raggio sia di tipo architettonico ti consentono di rilevare il dato in maniera molto più facile economica quindi è molto più facile di una volta prendere dati che una volta costavano tanto e buttarli dentro un sistema che li aspetta e che ti dietro un pulsante ti dà un report no? tu schiacci i dati vengono presi buttati dentro tu devi soltanto chiedere il report lui te lo produce diciamo così dandoti i volumi che ti interessa conoscere poi dalla fine come dici tu c'è sempre una valutazione di convenienza economica come giusto che sia questo è un altro elemento importante noi ci troviamo non so mi vengono in mente alcune situazioni all'interno di cave per esempio dove è sempre molto delicato parlare di questi temi che sono importanti ora sarò sincero sentire parlare Corrado sembra tutto semplicissimo sembra tutto lineare sembra tutto facile però mi immagino è divertente ma questo indubbiamente lo è è un hobby insomma però immagino che insomma all'inizio ora voi avete detto poi la chiamata il supporto però un utente che si avvicina a FME ha bisogno forse di formazioni o forse no come visto che voi siete da quanto da quanto ci avete detto poi la referenza italiana come è l'aspetto legato alla alla formazione alla alle utenze alle licenze io comincio a dirti un po' di cose io poi se vuole Corrado naturalmente aggiunge in realtà si è così quindi noi dicevamo un progetto dove serve questa applicazione si capisce ed è evidente che serva naturalmente ci sarà un costo di licenza che poi detto anche qui in maniera aperta perché poi a questo insomma è un altro elemento di costo anche questo da valutare da valutare le licenze partono da 2000 euro le licenze desktop diciamo base che si chiama professional per fare cominciare a fare questi flussi con moltissimi già moltissimi dei formati dei sistemi compatibili e sale fino a applicazioni di come posso dire custom dove serviranno licenze ridondate per generare prestazioni adeguate ma questo naturalmente si vede di volta in volta in realtà serve il software e poi serve un po' di supporto noi facciamo tutto questo supporto diciamo tutta la consulenza dalla formazione sia in aula sia sulla specifica esigenza dello specifico cliente al supporto poi continuativo nel tempo perché poi non si finisce mai insomma noi siamo quelli un po' più esperti su queste cose qua quindi ci chiamano poi nel tempo il nostro il nostro supporto è costante poi ovviamente via via che lo usi diventi più bravo chiedi cose più difficili e si prosegue come ovvio che sia in realtà la stessa safe software produce in inglese per dirla tutta però moltissimo veramente moltissimo materiale le cose i trasformatori che citava prima Corrado ma in realtà c'è una community molto viva c'è una ci sono proprio non so webinar un po' operativi per fare cose anche noi abbiamo cominciato a pubblicare quelle che chiamiamo pillole che sono piccoli brevi filmati che danno l'input come dire l'incipit delle singole cose però almeno in italiano per cominciare a supportare anche chi diciamo così mastica di meno l'inglese sulla sull'approccio verso FME e alle soluzioni che può ottenere poi c'è una grandissima apertura sia nostra ma anche di Safe Software nei confronti del diciamo così nella diffusione del software in tutte le modalità che ti possono venire in mente se c'è qualcuno interessato a provarlo va sul nostro sito ci chiama scrive a fme genegis.net oppure a qualcuno dei nostri indirizzi siamo in grado di fornire delle licenze temporanee e del software completo da provare magari con qualche anche con qualche spunto di supporto di idea da parte nostra esistono moltissime modalità di licenza da quella tradizionale di tipo perpetuo per chiamarla così compro la licenza quella è mia per sempre poi gli metto sopra magari la manutenzione che me la fa aggiornare così oppure ci sono delle subscription così chette per le grandi aziende che hanno volumi di installato diciamo rilevanti invece di gestirsi la singola licenza diciamo così detta male un canone annuo e poi fai quello che vuoi una specie di all you can eat dicevano ieri ieri ero con i canadesi in una colla e le chiamavano all you can eat di fme ci sono varie situazioni è possibile è possibile utilizzare delle installazioni cloud di fme oppure installare dockerizzare fme le installazioni di fme questo per far fronte ovviamente a tutte le situazioni che possiamo incontrare presso i nostri clienti ultimamente le organizzazioni più grandi ovviamente sono molto attive e avanti nei temi dei sistemi e quindi ti chiedono security ti chiedono dockerizzazione ti chiedono tutta una serie di cose che per fortuna sono per noi realizzabili perché vorrebbe dire altrimenti perdere il lavoro perdere il progetto non riuscire a soddisfare il cliente esistono poi anche una serie di licenze free tipicamente quelle per gli studenti oppure per l'home use per l'uso casalingo cioè tutte quelle licenze adesso questo devo sottoscriverlo sottolinearlo e metterlo anche in eretto non a fini commerciali cioè non ci si può fare il business sopra come ovvio che sia però in realtà intanto ci puoi lavorare ci puoi imparare fare tante esperienze insomma ecco su questa cosa qua veramente io invito anche tu se sei interessato anzi Corrado diamogli apriamogli una licenza così anche Paolo approfondisce c'è moltissima apertura in questo senso il nostro interesse è far capire che c'è una soluzione e che poi guarda un po' Genegis è in grado di costruirti e affiancarti nella costruzione dei tuoi sistemi insomma mi piaceva dare un ordine certo l'idea di massima apertura in questo senso assolutamente c'è molto c'è molto all'estero in Italia noi francamente non riusciamo a star dietro a tutte le iniziative dei safe software perché dovremmo avere un team di traduttori che porta quel contenuto in italiano non si può fare non ce la facciamo proprio facciamo quello che si può supportiamo come dire con supporto diretto chi ce lo chiede e poi cerchiamo di costruire un valore insieme e come si fa Corrado a diventare bravi come te a utilizzare FME? guarda io nella mia esperienza ho visto persone a cui bastava una mezza giornata e poi mi hanno detto ciao e sono andati avanti per la loro strada persone invece che è un po' più decoccio come si dice che nonostante giorni o ore di corso l'argomento non entra noi siamo tra l'altro certificati ci siamo certificati negli anni sia come consulenza che come trainer che anche come server siamo in due e nella nostra esperienza è proprio quello deve piacere ad esempio a me non è mai entrata in mente in testa la programmazione tradizionale ho provato diverse volte ma non niente invece FME è proprio una cosa io lo trovo molto semplice molto divertente creativo non lo trovo difficile forse ci sono alcuni aspetti e se andate a vedere le nostre pillole io ho cercato di trasmettere quali sono i concetti fondamentali capiti quelli secondo me si fa il passo per e poi questo è di cercare i trasformatori e di avere un background che ti aiuta come dicevamo prima perché se parti proprio da zero non sai cosa fare allora se hai un obiettivo e vuoi raggiungerlo secondo me ci si riesce anche facilmente fantastico grazie Luca Corrado grazie tantissimo del vostro tempo io credo che di FME se ne potrebbe parlare non per un'ora di podcast ma per una settimana interrotta per cui mi aspetto che arrivino altri feedback altre richieste adesso siamo andati nel dettaglio del software del processo dell'idea vi chiederei in chiusura di lasciarci i vostri contatti il sito web il sito web legato a FME poi mettiamo tutto nelle note dell'episodio però per chi ci ascolta in modo tale che se qualcuno mi vuole bypassare cosa che suggerisco perché credo che sia meglio di andare direttamente verso di voi lo può fare per avere le informazioni e vista anche l'apertura che avete dato nei confronti di chi si vuole avvicinare a questo strumento si guarda intanto ti dico che ci vuole passione come dice Corrado e poi ci vuole tempo noi diciamo quello in realtà quindi siamo un gruppo non siamo 400 però siamo un gruppo focalizzato su questi temi che anche noi anche Corrado che se ne sta molto ogni giorno impara qualche cosetta di più quindi è un po' un percorso infinito però per risolvere i problemi che ciascuno ha ci si mette sopra magari con un consiglio in più però si arriva abbastanza agevolmente alla soluzione non è nulla di straordinariamente complesso tutt'altro siamo un gruppo siamo in realtà nella realtà dislocati a Torino per storia per una storia dell'inizio di questo team che è in essere posso dirvi che a parte genegis.net che è il sito dell'azienda esiste www.genegis.net slash fme che all'interno del nostro sito dà i riferimenti principali e i primi contatti per il mondo di fme con noi in Italia esiste una mail che è fme chiocciola genegis.net che riceviamo immediatamente ci trovate sui canali social solite cose la nostra mail possiamo anche condividerla se tu vuoi poi aggiungerla ai contatti secondo me già il contatto legato a fme può essere sufficiente perfetto è molto facile trovarci anzi vi invito tutti chi ne ha voglia a farlo perché cominciamo a chiacchierare cominciamo a capire se si può dare una mano risolvere qualche problema e poi tutto quello che viene è bene e se no abbiamo fatto una bella chiacchierata abbiamo conosciuto persone abbiamo fatto uno scambio di questo ti ringraziamo anche per noi preziosi grazie a voi grazie a voi del tempo hai detto una cosa interessante Luca alla fine parlare con le persone parlare tra persone credo che aiuti tantissimo a capire le esigenze da una parte a capire se quel prodotto è un prodotto che può fare al caso di un processo oppure no è molto importante per cui guarda ti rubo ancora un secondo per dirti che proprio in quest'ottica ahimè il covid ci ha fregato un po' quest'anno l'abbiamo fatto a settembre in forma virtuale che non è proprio la stessa cosa noi ogni anno anzi SAFE organizza noi lo facciamo in Italia quello che si chiama FME World Tour che è un incontro prima giornata l'ultima volta l'abbiamo fatto a Milano ed è una user community è un incontro di utenti alla fine rincontriamo ormai amici devo dire che da molto tempo ci conoscono ma anche perché utilizzano FME e lì c'è un confronto molto vivace diciamo clienti gente che lo usa che fa vedere come l'ha utilizzato però di persona insomma di ecco quello è un modo di parlare che a me piace molto perché gli parli veramente anche tra clienti cioè non per forza mediati da noi anche tra tra di loro il come ci ha un po' fregato io temo che anche nel 2021 sarà un po' dura noi cercheremo di moltiplicare gli sforzi virtuali per così dire ma un giorno o l'altro poi ci arriviamo a rivederci quindi magari spero possa essere presente anche tu però ecco questo è un altro modo che noi cerchiamo sempre di fare non so di organizzare quello che era il GIS Day da un'altra parte insomma ecco tutte queste sono occasioni che virtual quando le fai virtualmente hanno un valore è pure importante quando riesci a farlo di persona a noi piace molto di più perché vai a spaccare un po' il problema lo analizzi ci vai un po' più dentro assolutamente bisogna avere un po' di pazienza ancora per questo assolutamente adesso chi ascolterà l'episodio nel momento in cui esce sarà ancora probabilmente in un periodo di lockdown semi lockdown però essendo questo un contenuto che andrà sul web è un contenuto che starà lì per cui ci sarà qualcuno che lo ascolterà quando ci saremo lasciati alle spalle tutto questo periodo per cui potremo assolutamente toccare dal vivo corrado e chiedere le cose legate ai processi assolutamente sono disponibile aggiungo solo che al world tour ovviamente sono benvenuti anche nuovi utenti interessati anzi siamo molto contenti di avere nuova linfa proprio per interesse personale perché è bello vedere nuove nuove persone eccetera poi volevo anche ricordare che dopo aver magari cominciato aver fatto i primi passi con FME la community di FME è molto attiva quindi se avete delle domande da fare fatele a noi ma potete anche fare direttamente a loro c'è quasi una lotta per rispondere perché c'è un punteggio che viene assegnato che risponde quindi c'è una lotta non guadagna niente però anche io mio collega una volta è stato un periodo in cui lottavo per rispondere il prima possibile quindi per dirvi che vi rispondono subito e soprattutto c'è una parte delle idee che vengono votate quindi voi potete dire mi piacerebbe che FME facesse questo se la vostra idea viene votata nella release molto probabilmente viene messa cioè sono tantissime idee messe dagli utenti che vengono paralizzate quindi una condizione molto attiva e FME molto attento al suo pubblico ai suoi utenti fantastico Luca Raso Corrado Alessandro grazie mille del vostro tempo siete stati preziosi e speriamo di sentirci presto vederci presto dai bravo bravo grazie Paolo grazie a te a tutti che ascoltano alla prossima grazie Paolo ciao